salve a tutti ragazzi sono sempre io mister tyke e allora questo sarebbe un post commentary messo all'inizio quindi è before commentary ecco allora siamo sempre uno e tre siamo io mister tyke glados ciao e vitto il mito ok perfetto niente perché fare questo post commentary before come quello lì comunque questo video perché è stata una serata un po particolare e non so che sia successo eravamo tutti fuori di melone abbiamo fatto il video quattro volte e la volta che ci è venuta buona nel senso quello che vi faremo vedere tra poco ci è venuto ahimè con i volumi bassi perché perché non si sa se abbassate volume soltanto la mia voce si sente più alta il gioco e le loro voce si sente un po più bassa e vi chiedo per cortesia un po di pazienza adesso mi si abbassa la mia di voce in real life e vi chiedo per cortesia di aver pazienza però ahimè queste sono cose che capitano e questo sta anche a dimostrare che non si caricano solo i video che vengono perfetti ma anche i video che vengono male non tutte le ciambelle vengono col buco ok e non parliamo di buchi qua bene ragazzi allora dopo questa introduzione vi lasciamo al video da tutti noi è tutto e ciao a tutti ragazzi ciao buona visione che click che click che cosa devi ingruppare stasera siamo un po troppo eccitati eh ecco allora ci siamo silenzio 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 ok metto demolizione ci siamo possiamo iniziare a registrare possiamo iniziare a registrare a vera pubblica privata mamma mia come sei schizzinoso dai comincio va bene sì va bene va bene allora ci siamo 3 2 1 e salva a tutti ragazzi sono sempre io mister tai che bentornati a questa quarta puntata se si può chiamare così di counter strike global offensive non faremo una serie diciamo non stiamo facendo una serie anche se la fine di sotto sotto è una serie va beh scusate il gioco di parole e però di tanto in tanto preferito io vittorio e glados e decidiamo di registrare queste puntate e di condividerle con lui cosa sto dicendo cosa sto dicendo con voi quindi oh glados da domani te le condivido tutte quante tele puntate allora ok ritorniamo sui binari perché siamo un po svalvolati non non si non so se ecco allora siamo o se volete salutare ragazzi siamo io mister tyke glados e vitto il mito ma è così di solito a te ti parlo sempre sopra non so come mai e stasera non so forse abbiamo bevuto un po troppo non lo so vabbè qualcosa e niente in questa puntata facciamo una demolizione una demolizione una è stata tanto tantissimo richiesta da vitto il mito e che non ha neanche l'immagine del profilo e gli ho consigliato di metterci che ne so un cavallecitato qualcosa del genere su qualcosa qualcosa che attiri l'attenzione e non solo quello va bene basta chiudiamo la parentesi cosa c'entra vabbè basta stop te è meglio che non parli e come volevo anticiparvi io e glados qua facciamo più schifo del solito vitto il mito la vuole fare questo video qua solo per umiliarci già ve lo dico quindi cominciamo subito vittoria e te secondo me 99 su 100 antiterroristi no perché ho detto a te ha detto ma chi ti vuole no che esci no oh che mi hai fatto cominciare a registrare vabbè glados io e te antiterroristi no si si ok è troppo stupendo sto plugin overwolf quello lì lassù mi dice le persone che parlano veramente comodo si 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 e separando tu guardate è l'unico pirla è una cosa seria esatto no ho fatto un colpo al microfono mi sei capottato porco giuda no speriamo che non sei scassato dai non ci sto capendo più niente ragazzi poi uno che mi ammazza bot troi come si fa a chiamare bot troi uno chi è sto tizio fa paura allora se vi levate un po dal pisellino ma io sto ancora giocando io sto già giocando ragazzi come tu no ma io con chi sto giocando allora ha metto il botto va bene vai ah vabbè intanto abbiamo vinto che parti dai dai ragazzi non sapete ma è la quarta volta è il quarto video della quarta volta che stiamo tentando di registrare dai 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 bottoni botton botton bottoni si 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 ma voi ci siete almeno in partita oh ho bottoni davanti no si è stato espulso per aver causato troppi danni ai tuoi compagni di squadra dai 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 rifacciamola dai rifacciamola no no la teniamo dai la facciamo una al volo questa partita merita ecco per quello che merita dai venite ah bene non ti ricordo che stia registrando come avete notato sono tutte e due dentro la stessa stanza e io sono da a quanto sono? 11 km di distanza? quanto è? che 4 cm che te sei in un comune e sono in un altro faccio io? no l'ho già fatto io l'ho già invitato no non ti hai invitato ti invito adesso sta arrivando ok ok demolizione parità pubblica no privata via via vediamo se riusciamo a farlo perché come ho detto sono già 4 volte questa è la quinta volta se avessi interrotto il film il film il video ragazzi stasera non ci siamo ragazzi state vedendo la parte oscura di Mr. Tyke Glados evito il mito questa è la parte oscura no non è tua no perché non sono non sono non posso accedere fatela voi la partita non mi fa accedere perché mi ha bannato nel mio computer stesso praticamente cosa in groppo? dai infatti invitatemi vai una partita su la cosa cosa? la cosa? ma riusciamo a fare una partita? non è che dobbiamo fare una corsa alle armi? dai dai veloce 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 che se no sto video durerà due ore almeno me ne frega niente può durare anche due ore piuttosto faccio due parti ma state non stai ancora registrando? eh voglia che sto registrando ma posso fare unisciti fa la pubblica un attimo che mi unisco dai io non voglio aprire steam unisciti ok aspetta ok adesso puoi fare la privata no adesso mi va abbassato sicuramente il microfono io ti sento bene no no perfetto perfetto sei rialzato no pubica o pubblica? non l'ho capito bene no io ho capito pubica non pubblica vadafà vadafà cioè ma noi stiamo facendo un video per fare una demolizione o stiamo facendo un video per mostrare la lobby di steam di 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 no no per me faccio un video soltanto per gameplay soltanto lobby 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 non si può sentire dai dov'è? cos'è? non l'ho mai fatta sta marpa si marpa non l'ho mai fatta mi fa schifo mi fa schifo guarda casastrano hai fatta tu la partita fa freddo e anche qua eh ma sei bloccato ok antiterrorista ma non la conosco sta mappa glados ecco te non mi spara ma guarda te ma stasera steam fa i capricci dai bot victor devi giocare con bottoni ce l'abbiamo bottoni in squadra? si abbiamo anche i tronisti ok adesso ho capito più o meno dove sono i terroristi i tronisti i tronisti si ok una kill l'ho fatta due kill what the fuck ragazzi stasera stasera non ci stiamo proprio glados siamo partiti bene un'altra kill nooo stavo caricando si che andavo una ma scoperta col picco come cavolo si chiama ah io posso schiacciare me l'ho scordato vale ump40 sinche ma la gente ma la gente ne avrà voglia di vedere gli scemi che siamo probabilmente fanno youtube no 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 possono fare anche possono fare anche una colletta perchè siamo veramente malati ragazzi oh lei un'altra kill no no qua sono morto proprio da scemo eh no desert eagle adesso ho finito di far kill al cannone di mister tyke non ho capito ecco l'ho detto che avevo finito di fare le kill io non sono capace non sono capace di giocare poi in più mi date anche un bot che sono appena morto come l'ho preso dai faccio ma non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio sono in posizione bottoni bottoni che piazza la bomba bottoni schiaccia i bottoni per piazzare la bomba bottoni che schiaccia i bottoni no tu lo hai non lo schifo ma la mia ti muovi ma la mia ti muovi ti ho ancora grazie che spari i proiettili le mie spari le supposte oh ma ammazzato non ho preso con nessun colpo devo puntare un po' più basso guarda faceva meglio stare come bot anziché pilotarlo io esatto dai guarda l'ho detto ho preso la desert eagle l'ho finito si che sono rimasti ooooh 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 no pentil bot è morto la prossima la prossima arma è il nova stai litigando non ho capito stai litigando con l'ipod che con te stesso no ragazzi mi raccomando se vi piace la nostra pazzia assurda iscrivetevi al canale guarda come hai detto iscrivetevi sono morto iscrivetevi al canale e se vi piace mettete mi piace al video se no non ci mettevo nel pulsante perché se io parlo non mi concentro non mi converto basta basta adesso mi devo concentrare adesso devo prenderla 5-7 no 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 ma questo non è un problema di armi sono io che sono un arbo io posso dire che più o meno di armi no no invece c'è un problema di mano bottoni mi hai stufato no l'avevo appena preso non ce l'ho fatta neanche in tempo a prenderlo un altro col nova ma sentiamo uno si chiama Vitto il mito come ti puoi chiamare Vittorio o Vittoria due sole cose oh ti giuro che io credevo che tu fossi Filippo io penso che mi chiamavo Vittorio ma non mi chiamavo il tuo cognome ma chi la vuole sapere il tuo cognome Vittorio Paniccia si si salve a tutti ragazzi sono sempre io Tyk e questo qua mi ha ammazzato col coltello ma col coltello tagliaci i pomodori non tagliare la gola a me hai capito il coltello ci fai i pomodori ci fai il salame ci fai le insalatine ci fai quello che vuoi no io ci taglio un'altra cosa se ti becco il cavolo di coltello uh siamo terroristi no veramente è fresca andiamo cecchino bottoni bottoni anch'io lo stavo ammazzando bottvictor vai glados sei tutti in me non sono tutti bottoni maggior numero decisione no io c'ho la bomba la G com'è G oggi vada ah veramente ma perché non la potevo piazzare io che cretino botvictor botvictor ma vaffanculo scusa è che non controlli un bot sì ma no senti bot è in turn ciao ciao fa un bro e adesso io sono sbloccato con la K47 ho cinque armi però mi faccio sulle corsa le armi com'è più com'è più a piazzare sì dai venite qua faccia di merda è la non c'è no no cosa non vale che sei una merda non sei capace di salvare le bombe ma no eh ti ha tolto la mano sì sì dai va bene no non c'è più l'arma non c'è più l'arma come mai non mi fa più vedere l'arma adesso sì ho fatto due kill l'una dietro l'altra tra un po' mi banna no vittoria si gira e che cosa te muori tu muori tu e e questa cos'è questa cos'è è una vittoria ragazzi barattolotti barattolosissimo mi son fatto ammazzare da bot head da un orsacchiotto da un orsacchiotto mai grande col coltello gli ha tagliato le pallette ho ucciso tutti praticamente sei un grande puzzi puzzi hai sentito che ho detto no dai ma cosa c'hanno in mano bottoni no ha vittoria il mito col tag svk fa un brodo cosa io c'ho il pp bizon bison bizon biz 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 bu planta planta la torta la torta ma che è quel ma lì l'ho sparato io vai prendi il bot ah scusa stavo guardando su quelli antiterroristici anzi terroristi anzi terroristi dai no dai usciamo guarda che abbiamo fatto una lunga l'abbiamo fatta eh non lo so quanto è durata però siamo stati veramente abbiamo fatto più del solito l'abbiamo fatto uh ho svolcato anche un archivment san marocchino no no marcecchino san marocchino ok ragazzi niente guarda stasera siamo tutti quanti fuori di testa come avete ben visto e niente siamo stati ci dispiace se magari vi abbiamo annoiato ma non credo che vi abbiamo annoiato in questo video perché è uno particolare e anche se è dura lo carico lo stesso e bene ragazzi dai se vi è piaciuto il video mi raccomando non scordatevi mi piace perché è importante per tutti noi e se volete iscrivervi al canale iscrivetevi perché ci farà grande piacere e niente allora da GLaDOS Vito il Mito se volete fare un saluto si ciao ciao si ciao ciao vabbè si 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 va bene va bene comunque da tutti noi e tutti ragazzi sa tutti noi e tutti da tutti noi e tutto ragazzi e ciao sa tutti è stata bella bellissima mamma mia assurda assurda no ma sempre io sono solo scrivito tra la mano senti che verità ci facciamo la domanda